Mi ricordo di Chiara come una bambina ricca di voglia di fare, di vedere il mondo, di viaggiare. Se voleva fare qualcosa era difficile convincerla a non farlo. Io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo, però volevo fare qualcosa che avesse un senso. Se hai una passione, se ami qualcosa, ci riesci, ce la fai, dipende da te. Penso che una cosa che ti fa capire quanto una persona possa essere importante per te è quando inizi a cambiare per lei. Qualsiasi cosa tu voglia fare la puoi fare veramente da sola, più di che contare su qualsiasi altra persona. Sapete chi è il primo italiano ad aver vinto l'Oscar in assoluto? Il grande Vittorio De Sica nel 1947 con Shusha. La prima attrice invece fu Anna Magnani nel 1955 per La Rosa Tatuata e l'unico italiano ad aver vinto come miglioratore protagonista è Roberto Benigni nel 1999 con La vita è bella. Se volete trovarci anche su TikTok andate nell'info box, c'è il link per altri video e argomenti qui accanto a me. Ciao al prossimo video.